Sono venuto qui a cercare di spiegarvi, poi dopo voi potete rimanere, della vostra idea di più reso. Non sono venuto qui a parlare del populismo, chiaro? Non sono venuto qui a spiegarvi quello sta succedendo. Poi, poi, se lo volete capire, almeno siete ascoltati le persone che non si spero di fuori. Allora, tutto nasce da questo famoso articolo 11, questo famoso articolo 11, qualcuno mi ha detto che quello è l'articolo con il quale si va alle aste. E' l'esima strozzata e vi spiego il perché. Innanzitutto quell'articolo è stato votato da tutti, da Padre compreso, da tutti. Perché su quell'articolo c'era l'accordo di tutte le associazioni variare e noi non ci siamo mai sognati di fare qualcosa contro il parere di quel documento unitario che è uscito due anni fa, due anni fa, dalla cellulare del santo. Noi quello abbiamo seguito, noi quello abbiamo applicato. E quando qualcuno, in maniera assolutamente stupida, ha cercato di chiedere, di inserire all'interno di quell'articolo un esplicito riferimento alle gare intese come è quindi detto il caso di gara. Io gli ho fatto presente, io gli ho fatto presente che se noi inserivamo il concetto di gara in quell'articolo, eravamo morti. Invece voi andate a leggere quell'articolo. Non c'è scritto gara da nessuna parte. Fabio ha detto una cosa giusta prima, ringrazio per l'educazione. Fabio ha detto una cosa giusta, il decreto legislativo, così com'è, non va da nessuna parte. Allora, signori, se volete capire le cose, se volete scoprire, va bene, va bene. Allora, tieni qui, tieni qui, chiedi qui. Allora, signori, l'articolo 11 che voi contestate, è stato votato da tutti i parlamentari, parli a comprensione, da tutti i gruppi con leggi, parli a comprensione, e non porta alle gare, porta a una rinegoziazione con l'Europa di quello che è la direttiva politica in materia di parteali. Ora, voi siete liberi di riprendere quello che vi pare. Nero su bianco, è scritto lì, e non c'è scritto da nessuna parte che quell'articolo obbliga il governo a fare le gare. Il governo vuol fare le gare, noi siamo stati da sempre i contrari. È inutile che adesso qualcuno voglia stravolgere la realtà, solo e disclusivamente, perché ci si avvicina all'Europa elettorale. È una cosa che non esiste. Voi andatevi a vedere negli ultimi tre, quattro, cinque anni quello che è stata la posizione mia e della lega. E ripeto, tutto quello che è stato fatto, tutto quello che è stato proposto, e tutto quello che è stato approvato, è stato approvato con il consenso e sotto dettatura, chiamiamola così, delle associazioni di categoria. Ora non mi stanno più bene? Benissimo! Quasi non stanno più bene anche a me, perché qualcuno oggi nelle associazioni ha chiamato per chiedermi che fossi presi di gare. Io sono qui, ma quella persona non la vedo! E questo mi sento ancora presa per il culo. Io sono qui, rimango, non ho problemi al confronto, perché so bellissimo che cosa ho fatto in difesa della categoria. Non pensate a come vi pare, io continuo a dialogare con le persone che vogliono dialogare, con i panini lungati no!